e il secondo mentor nella storia di Forino il 22 giugno del 1544 il pirata con tutta la sua ferma barbarossa con circa 14 vai avanti ma io non ce l'ho mi dà ok la notte è lunga il frio il pirata con tutta la lenta e che le il pirata con tutta la lenta perchè? il pirata con tutta la lenta e il pirata con tutta la lenta il pirata con tutta la lenta il pirata con tutta la lenta ma non ho capito cammina da giù? cammina da giù? ma non è stato sotto sta camminando lei? ho guardato non sono i suoi piedi il pirata con tutta la lenta parla Grazie a tutti. Grazie a tutti. La descrizione del carro, il mare, la terra ed il fuoco uniti dal comune Amore Perischia sono rappresentati fantasticamente da tre fate che non usano la pacchetta magica, ma le ami e le amore. Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.